Siete giorni fa iniziava la sua avventura sulla panchina del Palermo. Con una settimana di lavoro alle spalle, possiamo fare un primo bilancio di questa settimana di lavoro? Sì, lo possiamo fare, senza altro, nel senso che è un bilancio molto positivo, sia per la disponibilità e per la volontà e l'entusiasmo con il quale i giocatori si sono approcciati al lavoro, sia perché i giocatori si stanno allenando con continuità e questa è una delle nostre priorità in questo momento importante di crescita. Che valore dà al test di domani? È un primo test che chiaramente è la prima volta che scendiamo in campo, è anche la prima volta che troveremo degli avversari. La cosa importante è cercare di mettere sul campo le situazioni che stiamo provando, provando a cominciare ad essere una squadra sia per atteggiamenti sia per equilibri tattici. Ha lavorato sulla difesa 3, la squadra era abituata a giocare con la difesa 4 a distanza di 7 giorni, un primo giudizio in questo senso, come rispondono i giocatori? I giocatori stanno rispondendo, ripeto, con grande disponibilità, con positività. È inevitabile che qualcosina a livello di situazioni possa cambiare, ma io penso che ci siano le caratteristiche in questo Palermo per poter provare a giocare anche in questo modo. Due cose veloci per chiudere. Chi l'ha sorpresa di più, magari tra i nuovi quelli che conosceva meno, e se con l'arrivo di Ignacio Lores Varela il Palermo è completo? Sto avendo delle buone sensazioni da parte di tutti i giocatori, poi dopo è chiaro che ognuna delle proprie caratteristiche sta cercando giustamente di mettersi in mostro. È importante continuare con questi atteggiamenti, con questo entusiasmo, con questa volontà, e cercare, ripeto, di diventare squadra il prima possibile, perché noi abbiamo un po' di tempo, ma non ne abbiamo troppo. Il nuovo giocatore è sicuramente un ragazzo di talento, senz'altro. Aspettiamo che arrivi per vedere anche un attimino come sarà impiegato.